La Ministra Cartabi accoglie le richieste dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e annuncia personalmente durante l'incontro a Roma le iniziative che saranno intraprese in favore del Tribunale Teramano. Nel prendere atto della difficile e particolare situazione del territorio, ben illustrata dal Presidente Antonio Lessiani, il Ministero ha annunciato che a partire dal mese di giugno, all'esito degli ultimi concorsi, saranno assegnati al Tribunale di Teramo nuovi cancellieri. Inoltre, allo scopo di garantire più personale amministrativo, si effettuerà un interpello per mobilità e si solleciterà la stabilizzazione del personale. Per quanto riguarda i giudici, invece, si valuterà la possibilità di modificare la pianta organica di recente adozione, anche se l'eventuale provvedimento dovrà essere assunto su base nazionale. Si farà comunque ricorso da subito alle cosiddette piante organiche flessibili. Infine, il Ministero ha annunciato l'avvio di interventi edilizi, tra cui il rifacimento dei servizi igienici, che dovrebbero partire a novembre ed essere ultimati a marzo 2022. Il Presidente Antonio Lessiani ringrazia la Ministra Cartabia per l'attenzione ricevuta e ricorda che l'Ordine degli Avvocati di Teramo è stato un tramite, e continuerà ad esserlo, per monitorare la situazione e non lasciare che, quanto promesso, resti solo sulla carta. Grazie. 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 Grazie.